L'incidente questa mattina a Battipaglia sulla strada statale 18, quattro i mezzi coinvolti in tutto, tre auto ed un camion. Sul posto gli operatori del soccorso che hanno provveduto a trasportare i feriti tutti non gravi presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, i carabinieri e gli uomini della polizia locale per i rievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. Fra le persone coinvolte nell'incidente anche una bambina.